Cermignano dedica tre giorni a uno dei santi più amati d'Abruzzo. Qual è il programma? Il programma è l'U San Antonio, detto in termini dialettali nostri, ed è una manifestazione laica. Nel senso che non è la tipica festa religiosa legata al culto di un santo, nel nostro caso di San Antonio Abate, che è il proiettore degli animali domestici, come tutti sanno. Ma è invece una rassegna dei canti di questo legati al culto di San Antonio Abate. Quali saranno gli eventi in programma in questi tre giorni? In questi tre giorni c'è in pratica un turnover su circa otto gruppi di canto, e invece un gruppo di recite che viene da Chiedino, perché classicamente da Chiedino di San Antonio venne recitato e non tanto cantato come invece è tipico di tutto il tiramano. Quindi da venerdì a domenica, a partire dalle ore 18, il borgo di Cermignano si popolerà? Certamente, si popolerà e si illumina. Abbiamo anche, logicamente, degli ottimi prodotti che sono dei prodotti naturali, noi escludiamo qualsiasi cosa che non sia tipica del posto, e poi offriamo a tutti quelli che vengono i nostri famosi uccelletti. Siamo il paese degli uccelletti, perché da noi in tutte le case si fanno gli uccelletti, e pensare che è tipico proprio di Cermignano, perché appena San Andrea a tre chilometri non fa gli uccelletti, Cellino a quattro non li fa, quindi bisogna vederli, gustarli, perché sono dei veri ricami che le nostre donne sanno fare con molta perizia. Grazie.